Oh no! E questo che cos'è? Perché sei sempre così titubante, Vincent? Smettila di fare quella faccia del tipo cosa ha da starnazzare! Ho perduto l'appetito. No! Come al solito niente da fare. Come diversivo osservo l'auto rave. E... Oh no! Cos'è questo? Smettila di fare quella faccia del tipo cosa ha da starnazzare! Ho perduto l'appetito!